Dopo più di vent'anni a Verbagna è tornata a sventolare la bandiera blu. Un riconoscimento importante alla città di Verbagna, a tutto il mondo turistico, alle opere realizzate per favorire l'attrattività di questo territorio. Quindi alla pista ciclopedonale, alle nuove spiagge che vanno a integrare una offerta che già c'era. Però abbiamo molto potenziato la vocazione sul lago e anche fornire dei servizi. Quindi avere la bandiera blu significa essere molto più attrattivi verso i turisti e anche dare un riconoscimento, una dignità agli operatori del territorio. Quindi un investimento per il futuro che dovremo essere capaci di mantenere naturalmente con la cura dell'ambiente e tutto l'interesse nei termini dell'educazione ambientale che possiamo fare anche insieme alle scuole. Un lavoro di squadra come è evidenziato anche stamattina, la presenza di tanti attori nel campo del turismo. Gli operatori turistici hanno da sempre richiesto un apprezzamento internazionale per questa località e per il Lago Maggiore. Quindi sarebbe anche importante che le altre realtà di lago, oltre a Cannero e Cannobbio, riuscissero a percorrere questa strada perché poi il turista vede un territorio unito senza i confini amministrativi. In secondo luogo diventa importante investire nelle opere per il turismo e nei servizi, dando anche il senso un po' a un Lago Maggiore che si svecchia proprio perché, pur riconoscendo la tradizione, guarda al futuro capace di portare qua anche un pubblico diverso rispetto alla sua tradizione. Grazie mille!